nuove ricerche in corso per lo scrittore francesco crociani autore di al di qua e al di là degli appennini e ricerche che riguardano una strada dimenticata importantissima poco più di una mulattiera che però ha avuto un'importanza straordinaria soprattutto nell'ottocento e fino alla fine dell'ottocento si tratterebbe di una via del sale e partirebbe immaginandola come dire iniziante in valtebrina toscana da monte la breve in direzione dell'adriatico una strada che serviva per il traffico di questo importante materiale come sei riuscito a entrare nella conoscenza di questo via dunque sono uscito a entrare in questa via tramite un mio amico che faceva delle ricerche particolari e c'è e gli è balzata agli occhi una vecchia mappa di dell'epoca del 1400 qualcosa del genere cosa scoperto ha scoperto che c'era un sentiero un percorso dove passavano la gente con i muli e con iniziale anche addirittura sulle spalle e fa ad analizzare tutto ciò ha capito e abbiamo capito dopo poi ho analizzato anch'io che quella era una via del sale che dalla marecchia dalla marecchia attraversava l'appennino passando per il borgo di monte la breve parchiule e arrivava giù verso la trabaria sulla valle del foglia allora si è domandato ma perché questo percorso e abbiamo capito che per evitare le vecchie gabelle i grossi dazi eccetera bisognava deviare nel bosco tagliare da un'altra parte in questo caso permetteva alla gente di arrivare il sale che arrivava dalla romagna dalle saline di cervia portarlo verso la toscana addirittura il sentiero se noi abbiamo analizzato parecchio questo sentiero qui arriva fino alla liguria tramite altri sentieri è ovvio quindi era un all'epoca era un minerale importante che serviva per l'umanità per la gente per provvigionarsi per per salvare la carne altrimenti sarebbe data a male insomma e io ho parlato di nuove ricerche in corso perché questa volta e sei a raccontare proprio un'anteprima non sono oggetto di pubblicazioni se non pubblicazioni future e questa strada mette in luce una importante economia di quei tempi è vero che il sale veniva anche scambiato e aveva un valore straordinario quasi migliore dei soldi per l'acquisto di altre materie certo il sale era l'essenziale della gente era una ricchezza per molte famiglie perché innanzitutto veniva utilizzato nelle abitazioni eccetera poi veniva utilizzato nelle macellerie di allora perché la carne senza nessun conservante senza nessun frigorifero come c'è oggi sarebbe nel giro di un giorno due sarebbe andata male l'unica salvezza era questo prodotto che era molto molto ricercato addirittura c'è nato anche il contrabando la gente cercava di fare i furbetti chi scaricava il sale per poter avere quel pugno per andare a casa e dire domani salviamo la carne poi c'è da dire che un'altra cosa importante che il pesce per essere trasportato dai vari porti aveva bisogno del sale per salvaguardarlo altrimenti sarebbe andato in avaria ed era utilizzato anche per le pesche questo sale il pesce e la carne perché tu sei occupato della spezzatura del maiale nel tuo libro e la conservazione almeno fino all'avvento dei sistemi di refrigerazione era esclusivamente legata alle carni sotto sale certo e le carni avevano bisogno del sale perché nel giro di un giorno due va in avaria invece con il sale ha una durata molto molto più lunga molto più consistente poi anche la persona anche l'uomo ha bisogno per sopravvivere dei sali e riscoprire questa strada sulla quale tu hai puntato il dito significherà anche riscoprire dei punti inevitabili perché questa strada deve pur avere se non delle pietre miliari ma almeno dei punti di sosta degli antichi muri non lo so qualche torre di castello e vi aspettate di riuscire a trovare qualcosa sarà facile facile non è perché abbiamo iniziato da poco e quindi siamo solo ora in grado di poter capire dov'è questo sentiero noi cercheremo di rintracciare questo sentiero questo percorso fatto nei millenni trascorsi poi dopodiché cercarlo di ripercorrerlo a piedi ma come sappiamo le difficoltà sono enormi perché entreremo in dei territori magari che sono già bosco oggi non esiste più nulla quindi andare a ricercare quello che era di moda di moda insomma quello che era un tracciato di minimo di 300 anni fa lei capisce che abbiamo grosse difficoltà però è importante sarebbe bello ridare un disegno a quello che era il vecchio sentiero questo qui potrebbe avere a favore l'economia anche locale perché il turismo sarebbe sicuramente incrementato c'è una strada vicino a questi sentieri che si può percorrere con la macchina con la mountain bike a piedi a cavallo come uno desidera e arrivare a Montella Breve rifare il punto di ristoro perché Montella Breve era proprio un punto di fermata per il viandante per il commerciante per le persone per i girovaghi per rifucillarsi per avere l'osteria ristora all'epoca le osterie c'erano in questi posti qui e via e così via Montella Breve ha anche un'altra eccellenza Ermenegildo Ricci nato il 28 agosto del 1886 vescovo martire in Cina sarebbe anche l'opportunità per rigettare uno sguardo su questa storia e sulle terribili condizioni di abbandono della chiesa dove è stato battezzato Ermenegildo Ricci? Certo che se potessi, se uno, se riusciamo a tirare fuori tutto questo bel percorso sarà uno stimolo per poter risanare la chiesa che in questo momento è stato totale di abbandono e via e poi riscoprire questo martire che è morto in Cina che c'è adesso una campagna di beatificazione qualcosa del genere insomma e soprattutto ridare turismo, ridare percorribilità, ridare vita a quelle valli a quei luoghi che per una cinquantina d'anni abbiamo completamente abbandonato cerchiamo di fare un sentiero anche del CAI, se questo è possibile, se sarà possibile però una volta che abbiamo ridisegnato la mappa ci saranno delle cose molto importanti perché ci saranno anche dei punti tutti da scoprire, dei ristori, dei casolari piccolini perché la gente quando viaggiava aveva bisogno di un punto per rifugiarsi, per ripararsi dagli intemperi da tutto, saranno veramente una bella novità, delle belle sorprese Infine i telespettatori stanno vedendo delle immagini che tu hai prodotto si intravede nel costone della montagna piccole tracce di questo sentiero ormai invaso dalla vegetazione Montelabreve oggi ha pochi abitanti, un tempo c'era qualche centinaia di persone e un'economia e una civiltà che sta scomparendo, sta andando verso la direzione di paesi fantasmi? Già nel paese fantasma perché l'economia ormai è stata abbandonata circa 50 anni fa quanto la gente è andata via e speriamo appunto di poter riportare una certa vivibilità a questi luoghi che sono stati per colpa anche di tanti errori, tanti sbagli che sono stati compiuti e abbandonati ma l'auspico e la speranza di ridare vita a luoghi sconosciuti che sono veramente belli come Montelabreve Grazie